Presenteremo ufficialmente alle 11.30 le 5 borse di studio che la Regione assegnerà in collaborazione naturalmente con l'Università Yulm, esclusivamente su base meritocratica. Presenteremo domani con il Rettore, il Professor Gianni Canova, che devo dire anche solo ascoltarlo, parlare. Gianni Canova è la classica persona a cui puoi far leggere, per chi le ricorda, le pagine gialle e ti fermi incantato ad ascoltare. Per chi è più giovane, quale che sia l'argomento, il Rettore Canova riesce a renderlo assolutamente meraviglioso nell'esposizione e nel racconto. Sarà con noi anche Daniele Manca, Vice Direttore del Corriere della Sera, nello specifico il Direttore responsabile del Master di giornalismo della Yulm. 5 borse di studio è l'inizio di un progetto che noi della Regione crediamo di poter sviluppare in collaborazione naturalmente con altre università, puntando a voi, alla vostra formazione, voi ragazzi, voi studenti che credete in voi stessi, nelle vostre possibilità realmente di utilizzare l'università come quella è un'immagine, forse l'avrete sentita, mi piace comunque, non tutti sono d'accordo, lo so, ma mi piace, ascensore sociale. Perché indipendentemente dalle condizioni di partenza è il più meritevole, chi si è impegnato di più, chi ha più capacità, chi ha più voglia, chi ha anche più coraggio di ammettere i propri errori naturalmente e le cose da correggere, può e deve fare strada nella vita. Le borse di studio della Ragione sono un piccolissimo contributo, però esattamente in questo senso. Ne parleremo molto nelle settimane a venire e ne scriverò anche molto. A domani! Ciao ragazzi!